Settima anziani sul miglio, non corre due di Return to Griff, ne rimangono in nove. Totalizzatore orientato verso Rom Guasimo, che abbassa leggermente il tiro. Mezzo meccanico in movimento. Nove anziani, settima allineamento che va quasi a completarsi. Buono l'allineamento. Galoppa il sette, padre e padrone par. Si allunga bene Rodriguez, che va al comando con allargo Power F. Cavalli che affrontano la piegata a largo, Ramadan Jet. 13.3 il lancio, sta passando Power F il leggero vantaggio. Si completa la piegata e anche il sorpasso di Power F, che dopo 400 in 28.2 va al comando. In quarta posizione Richard e Ronco, ha avuto problemi Petra Diamond. Risalgono Rally Rigal e Rom Guasimo. 600 in 43.5. Cavalli che affrontano la penultima curva, l'andatura è brillante. Rally tenta di migliorarsi, siamo al completamento del mezzo miglio iniziale. Mezzo miglio in un minuto e qualche, proprio un asterisco. Power, Rodriguez, Rally Rigal, Rom, che forza a largo trovando un po' di traffico. Il chilometro in 15, tondo, 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 ma molto tondo. Rom Guasimo scavalca, Rally e va a caccia del leader. Curva finale, 14.1, 1.29.1, tre quarti di miglio. Regge ancora bene Power F. Di dentro è Rodriguez con a largo Rom Guasimo. Retta d'arrivo, Power F tenta lo stacco, si ingamma Rom Guasimo. Rom va a caccia di Power F, si libera Rodriguez. Tre cavalli in lotta, lotta incerta, Rodriguez B stampa, Rom Guasimo. Terzo, il numero quattro di Power F. 1.58.3, 1.13.9. E che bella vittoria di Giorginio. E che bella vittoria, signori. Quando sono così belle le vittorie, bisogna dirlo più di una volta, bisogna vederle e rivederle. Rodriguez B, alla grande. 4.41.